Intenso adenamento del giovedì per l'Oscalea dopo la vittoria interna di domenica scorsa contro il Corigliano. Si guarda la trasferta di Sersale cercando di recuperare gli infortunati con la consapevolezza che la gara di domenica scorsa può rappresentare un vero punto di svolta. Io credo, come abbiamo detto sia io che il mister di domenica prima della partita, che la partita di domenica scorsa potrebbe essere l'inizio del nuovo campionato. Io dico che questa squadra può andare a giocarsi le partite con Chiung, sia Palmese, che sia Vibonese, che sia il Corigliano oppure il Bocale, con qualsiasi squadra. Se entriamo in campo come siamo entrati nel secondo tempo andiamo a giocare con tutti. Ci vuole grinta e specialmente ci vuole il cuore per scendere in campo. Sono campionati dove sicuramente il livello tecnico non è alto. Si lotta come campionato di promozione secondo me. Siamo quasi ai stessi livelli. Bisogna lottare fino alla fine e quando uno lotta poi i risultati arrivano. Carnevale dovrà fare ancora meno di Altieri. L'attaccante acquistato in estate è fermo per squalifica e potrà esordire nella prossima gara interna contro la Tarionovese. e andare così a formare un interessante tandem con il capitano Scopetta. Antonio è più un attaccante lì, fermo davanti, d'area di rigore, mentre Altieri è uno di più movimento. Diciamo che possono giocare anche insieme, non è detto che entra Altieri e esce Scopetta. Possono giocare tutti e due insieme e sicuramente per me faranno una bella coppia insieme, perché uno fisso lì davanti e uno che gli fa movimento, ognuno dei due può aiutare l'altro a andare a rete.